Chi è il più giovane di tutti lì dentro? Io. Chi è il più giovane? Laura. Laura? Anni? 25. 25, vi offre di meno? Chi è il più giovane? Chi è quanto? 29. Ragazzi, non dite 19 così per parte. 207, 19, preghi. Il scorso anno, 600 assunti, di cui 400 con Jobsat. Siamo... Buongiorno a tutti. Buongiorno a tutti. Buongiorno a tutti, buon lavoro. Buongiorno. E che parla di bello? Ci sapete... Sviluppatori. Sviluppatori. Software. Software. Io suggerisco a Isabel Le Modifiche, non vorrei essere responsabile per noi. Quanti siamo qua? Questi, cioè, il gruppo sviluppatori, quanti sono al totale? Siamo tutti. Siamo qui a Comeza, tra i 150, conversamente 400, 450 anni. Siamo fatti di sviluppatori. 1, 2, 3, 4 ingegneri, poi? Statistica, lettere, come è che fai con tutto il software? Perché mi piace. Facciamo fare i parti suoni. Bene, in bocca al lupo, buon lavoro di cuore. Arrivederci, buon lavoro.